Jonathan Franzen, Crossroads, 600 e rotte pagine, ci ho messo un mese e mezzo, ma non perché il libro fosse pesante, anzi, adesso cerco di spiegarvi, è sicuramente un libro per lettori forti, è anche scritto piccino, ogni pagina ne vale un e un quarto, però la mia lentezza è stata dovuta al fatto che è un libro densissimo, ogni riga ha un significato, lui entra veramente in ogni piega, in ogni ragionamento dei suoi personaggi, è veramente meticoloso nel descrivere quello che succede all'interno di questi personaggi che sono Russ, il de Brandt, un pastore della prima chiesa riformata e la sua famiglia composta dalla moglie, chiaramente, che a me è stata molto antipatica, però poveretta anche lei, e da questi quattro figli di cui tre adolescenti che non vi dico, il piccolo viene lasciato un po' in disparte ancora alle elementari per fortuna, ne succedono di ogni, appunto questo libro è talmente denso che mi ha fatto pensare a due cose, una un lungo viaggio, veramente un lungo viaggio di un mese e mezzo, in cui però la cosa importante non è stata la destinazione, lasciamo perdere come finisce, se finisce, non importa, ma il viaggio, cioè il percorso che queste persone fanno, e poi mi ha fatto pensare anche un po' a un buco nero che mi ha risucchiata, non riuscivo a leggere nient'altro, ma nello stesso tempo era così denso che dovevo continuamente interrompermi e lasciarlo depositare. Allora, quello che ho tratto da questo libro sono 5.000 frasi di quelle che uno dice, caspita, l'ho sempre pensato e però non sapevo come esprimerlo, ce ne sono veramente tantissime, oltre poi all'ambientazione appunto nella profonda campagna americana, che vabbè, quella a noi interessa relativamente, però l'adolescenza segue comunque queste tappe, quindi sarebbe un libro per genitori di adolescenti o per adolescenti. E poi non mi ricordo più cosa stavo dicendo, in ogni caso questo libro io lo consiglio appunto tantissimo, è molto bello, ha lettori molto forti e la lezione, diciamo, quello che ne ho tratto è come veramente noi siamo artefici del nostro destino e non ce ne rendiamo conto, per cui a volte facciamo delle scelte veramente distruttive oppure costruttive e tutto questo ribalta la nostra vita e noi siamo così ottusi da non accorgercene del resto, se fossimo così preveggenti il divertimento verrebbe meno. Arrivederci!